God Save the Wine, speciale estate, vino di una notte di mezza estate, siamo qui a fare gli incantesimi, con le bollicine vengono più facili e l'incantesimo di stasera sarà spiegare, senza usare paroloni, il saten, che è il prodotto che caratterizza Conta di Castaldi, al Mario, cioè alla persona che normalmente magari non beve, si accontenta di una bollicina qualsiasi, perché dovrebbe provare almeno il saten. Ok, beh, innanzitutto che cos'è il saten? Il saten è un prodotto che viene fatto solo ed esclusivamente in Franciacorta e vengono utilizzate solo le uve bianche consentite dal disciplinare, quindi Chardonnay è una piccola parte di pino bianco. Saten perché deve richiamare qualcosa di molto morbido, di molto setoso e quindi delicato, quindi per questo motivo l'utilizzo dello Chardonnay prevalentemente, che è un vitigno elegante, e poi la rifermentazione crea un perlage che è molto più delicato rispetto agli altri Franciacorta, perché lo dovrebbe scegliere, perché è un vino sicuramente vivace, perché è un vino molto allegro, è un vino da compagnia ed è un vino alla portata di tutti i palati. Per quanto riguarda gli abbinamenti, devo dire sì, è un vino molto versatile, che può essere bevuto sia all'aperitivo, ma ha altrettanto valore anche nell'abbinamento con i piatti. E invece questo famoso rosato che ogni anno è esaurito e stiamo a aspettare, giusto, è appena uscito finalmente, il 2007. Sì, allora innanzitutto devo dire che Conta di Castaldi è la prima azienda in Franciacorta nella produzione di satenna a livello di volumi e anche di rosè. È un vino sul quale noi puntiamo molto perché oggi lo consideriamo un vino molto moderno, molto innovativo. Ne abbiamo due tipologie, uno non millesimato, che è un vino prevalentemente d'aperitivo, e ne abbiamo uno millesimato, che è quello che stiamo assaggiando, che è un vino un po' più d'abbinamento o d'aperitivo nel caso che venga assaggiato da un palato un po' più raffinato. Nella fattispecie questo è un rosè millesimato 2007, 70% pino nero, 30% chardonnay, con 36 mesi di affinamento sui lieviti. Ricordiamo che tantissime bollicine anche più blasonate fanno neanche un terzo di questo tempo sui lieviti, e sapete che più sta sui lieviti, cioè a riposo nelle cantine, più acquista volume, sfumature, strutture, ed è un rosato però non da signorina, è vero? Possiamo dirlo? No, assolutamente, o perlomeno. Piace forse di più, ma non direi agli uomini, piace di più a chi ha un palato un po' più preparato ad affrontare questa tipologia di vino. L'altro rosè, quello non millesimato, è una base chardonnay, e incontra maggiormente il gusto di uomini e donne. Diciamo forse un gusto un po' più semplice. E noi non abbiamo paura nemmeno di questo. No, assolutamente. Non abbiamo paura.